Salve a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo filmato dedicato al mondo Macintosh Allora, come vedete ho cominciato subitissimo a utilizzare il mio nuovo MacBook Pro e questo primo filmato dopo l'unboxing volevo dedicarlo a quello che probabilmente è il punto controverso principale sin da quando questi nuovi modelli sono stati presentati sappiamo tutti che sto parlando delle porte USB-C ovvero del fatto che ci sono solo le porte USB-C era la cosa che mi aveva fatto infuriare di più all'inizio ed era la cosa che mi aveva impedito per lungo tempo di considerare un acquisto di questo genere ma ora che ci sono dentro anche io, che cosa ho fatto per ovviare il problema della compatibilità? che cosa ho fatto per le porte che mancano? vediamo tutte queste cose fondamentali dopo la nostra sigla iniziale grazie a tutti grazie a tutti bene ragazzi, eccoci di nuovo insieme per parlare del problema delle nuove porte USB-C di questo MacBook Pro e quindi della mancanza delle altre porte rispetto a un vecchio modello ma prima di tutto volevo di nuovo cogliere l'occasione, come al solito, per ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e mi raccomando, altrettanto importante è attivare la campanella perché solo in questo modo sarete sicuri di essere sempre aggiornati su tutte le nuove uscite che verranno pubblicate in futuro su questo canale inoltre vi ricordo che se per caso voleste supportarmi con anche una minima donazione in descrizione, come al solito, troverete, oltre al link della mia pagina Facebook e del mio sito anche tutti i dettagli di PayPal e del mio account Streamlabs ovviamente il tutto è pienamente facoltativo, è ovvio ma veniamo subito al nocciolo della questione ovvero la presenza di sole porte USB-C su questo nuovo MacBook è una cosa che veramente mi aveva infastidito quando è stato presentato questa nuova generazione di MacBook Pro ed è una cosa che mi ha veramente sempre preoccupato ed è per questo che in passato avevo cominciato a comprare quegli hard disk da 8TB dotati anche di USB-C per iniziare a, fra virgolette, prepararmi in maniera soft alla transizione futura che cosa ho fatto dunque in questo momento in cui ho dovuto passare a questa nuova generazione di MacBook? è presto detto appena ho ordinato questo nuovo MacBook la prima cosa che ho fatto è stata quella di ordinare contemporaneamente anche questo particolare adattatore che secondo me è l'unico modello degno di essere usato quotidianamente non perché gli altri non funzionano ma per una questione proprio di comodità andiamo rapidamente anche a fare l'unboxing di questo particolare strumento che mi è arrivato tra l'altro per posta esattamente lo stesso giorno in cui sono andato a ritirare il MacBook all'Apple Store quindi è stato veramente tempistica perfetta vedete questo qui è fornito in questa particolare confezione vi lascio il link in descrizione se per caso qualcuno di voi fosse interessato è un oggetto molto minimale però è fantastico perché questo particolare design con queste due porte USB-C che vedete qui va adattarsi perfettamente alle porte USB-C che sono presenti sul MacBook in questo modo quando è collegato viene a essere collegato in maniera statica in maniera rigida non mobile con un filo che se magari mosso male si allenta il contatto perde il contatto e via dicendo vedete queste due particolari porte USB sono esattamente combacianti con le due porte su ciascun lato del MacBook quindi se io vado a inserirlo andrà a succedere una cosa di questo intanto vi faccio vedere cosa c'è ci sono due porte USB-C ci sono due porte USB tradizionali e due slot per le memory card una normale e una micro oltre a una porta HDMI sul lato quindi se io vado a collegare questo particolare adattatore vedete non devo fare altro che inserire le due porte USB-C nelle due porte del MacBook vedete si accende anche una luce azzurra all'interno per far capire che il collegamento è avvenuto perfettamente dopodiché andiamo subito a vedere alcuni esempi concreti di utilizzo allora questo è il cavo di alimentazione a USB-C lo vado a inserire in una porta USB-C e vedete subito si sente il suono di inizio ricarica a questo punto potrei provare a prendere il mio hard disk da 4 terabyte quello da viaggio diciamo così e provare a collegarlo a una delle porte USB tradizionali ovviamente come al solito stavo sbagliando il verso della porta USB quindi la giro e la inserisco a questo punto non appena il sistema riconosce l'hard disk l'icona comparirà subito sul desktop ed eccola qua io credo che sinceramente non esista una soluzione migliore di questo particolare adattatore per ovviare alla mancanza di porte tradizionali ma andiamo a fare qualche altro esempio questo è una cosa che volevo farvi notare fin da subito grazie al fatto che la porta USB-C è simmetrica e non ha due lati diversi tra loro come succedeva con le porte USB tradizionali questo particolare adattatore e qualunque adattatore che ha una porta USB-C può essere inserito indifferentemente da un lato o dall'altro e questo ovviamente vale anche per le due porte USB-C sull'altro lato del MacBook qui state vedendo un filmato che ho fatto mentre stavo facendo il primo backup di Time Machine backup completo con il mio hard disk esterno subito dopo la configurazione iniziale del MacBook vedete la luce lampeggiante significa che l'hard disk sta funzionando e la luce azzurra all'interno dell'adattatore vi dice che il tutto è connesso regolarmente questo è il primo backup come vi dicevo che sto facendo con Time Machine nel nuovo MacBook devo dire che sono rimasto molto sorpreso dalla velocità con cui ha fatto questo primo backup considerando che il primo backup è generale è sia sistema operativo che dati presenti sul computer io mi ricordo che le altre volte ci mettevo due ore, tre ore questo qui nel giro di 20 minuti ha finito quindi questo hard disk sembra essere veramente veramente veloce una cosa a cui volevo dirvi di prestare particolare attenzione è nel momento in cui utilizzate un adattatore di questo genere e volete disconnettere una qualunque periferica il mio consiglio è di tenere l'adattatore ancorato saldamente al Mac mentre disconnettete la porta in questione perché in questo modo evitate di sforzare la connessione nelle due porte originali del MacBook e quindi evitate di usurarle nel tempo ma proseguiamo rapidamente con qualche altro esempio questa qui è la SD card che io usavo sul mio vecchio MacBook per raddoppiare l'hard disk interno vedete in questo caso non è a scomparsa perché è progettata per il vecchio modello di MacBook e quindi non combina precisamente con questo particolare oggetto ma comunque è facilmente utilizzabile vedete si connette facilmente, sporge un po' ma se avete bisogno di usarlo pazienza vedete che l'icona è subito comparsa sullo schermo se io adesso vado a disconnetterla sarà altrettanto facile poi andare a rimuoverla non è a scomparsa come succedeva nel vecchio MacBook ma una volta che avete l'adattatore attaccato al MacBook che sporgo un pochino, pazienza comunque fa abbastanza il suo lavoro questa invece è una classica SD card da 64GB la vado a inserire ovviamente sporgerà molto di più di quell'altra perché è più grossa ma svolge comunque il suo lavoro e comunque sporgeva anche se in maniera minore anche dal vecchio MacBook quindi in questo caso non cambia più di tanto anche in questo caso ovviamente una volta andata a disattivare l'icona sarà altrettanto semplice sempre tenendo fermo l'adattatore con le mani rimuoverla vedete che in pratica questo è un utilizzo di base io sinceramente mi trovo molto molto bene con questo particolare tipo di adattatore multiplo non credo, ripeto, che ci sia un adattatore migliore di questo per risolvere il problema della mancanza di porte fondamentali e guardate bene che non sto parlando necessariamente di questo particolare modello di questa particolare marca perché ne ho visti di tanti tipi come questo questo costava una ventina di sterline ma ne ho visti di 40, ne ho visti di 90, di 100 sterline per cui ce ne sono di tanti tipi diversi ognuno con qualche piccola differenza nella fornitura delle varie porte che sono disponibili e di varie marche e di vari prezzi non sto parlando in particolare di questo particolare modello di questa particolare marca ma di questa tipologia di adattatore quindi fisso, non mobile con un cavo quello che mi dava fastidio è avere un adattatore che penzola con un filo questo qui, stando fisso, attaccato al corpo centrale del Macbook mi dà molto, molto meno fastidio ovviamente non lo utilizzo sempre ma quando ho bisogno di collegare qualcosa con una porta tradizionale non credo che ci sia una soluzione migliore di questo particolare tipo di adattatore multiplo qui fatemi sapere che cosa ne pensate voi io per adesso ho risolto in maniera abbastanza diciamo pragmatica questo problema delle porte effettivamente non si sente in una maniera mostruosa come mi immaginavo si può benissimo andare avanti anche con le suole porte USB-C vedrò nel tempo come si sviluppa il mio rapporto con esse a questo punto io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo filmato a questo punto io vi saluto